Buongiorno a tutti, sono Claudio Boeldis, sommelier dell'Espresso iCaf, che è l'Accademia Italiana Maestre del Caffè. Vi presentiamo la Frog, una macchina del caffè ad uso domestico per il sistema cialde ecologiche. La Frog è composta da un serbatoio con capacità fino a 2 litri, un cassetto raccogli goccia, una leva meccanica che serve a mandare in pressione la cialda ecologica e un beccuccio erogatore. Quattro tasti che indicano accensione o spegnimento della macchina del caffè, la temperatura, quindi quando la macchina è in temperatura per erogare il nostro caffè, accensione o spegnimento della funzione vapore, solo se la macchina è dotata della lancia vapore. Colleghiamo il cavo alla presa elettrica. Accendiamo la macchina. Inseriamo una bottiglia piena d'acqua minerale nel serbatoio. Quando il pulsante della temperatura si spegne, eroghiamo due tazze di caffè piene d'acqua. Ora la macchina è pronta per il primo utilizzo. Grazie a tutti. Buonissimo.